Ognuno di noi è libero di avere delle opinioni in merito ad un'amministrazione comunale. Queste opinioni possono essere non condivisibili ma rispettabili. Con questo video voglio fare un ragionamento che abbia alla base una matura riflessione in merito a quello che sto per dirvi. Poi possiede liberi di votare chi riterrete opportuno. Da quando si è insediata questa amministrazione e anche quella precedente per la verità noi siamo costretti a fare la via crucis delle tasse ogni anno. È aumentato il servizio mensa, le aree fabbricabili, la tosa, l'imu, la tasi per quanto concerne le prime abitazioni e dulcis in fundo l'atari. Il cittadino vuole sentirsi partecipe della vita pubblica, vuole pagare le tasse, ma in cambio vuole avere dei servizi se non efficienti sufficienti. valutate voi se in questo paese i servizi sono a misura d'uomo. A mio parere oggi il cittadino è tartassato, dissanguato, salassato, ma la furia tassaiola di questa amministrazione, a parer mio, non si ferma qui. Ora, con le loro acrobatiche azioni, stanno decidendo di tassare i nostri bisnonni e trisnonni. Quindi si è aperta la caccia agli eredi. Insomma, una vera e propria macelleria sociale in questa città. Eppure nessuno parla più, ma voi, con il vostro voto, avete dato a questa gente la licenza di uccidere e ci sta uccidendo, sta azzannando il cito sociale. Una vera e propria macelleria sociale. Eppure si freggiano dell'orpello di uomini di sinistra, cioè di coloro che dovrebbero, questo lo dico sempre, tutelare le fasce più deboli. Con la mia gestione, le lamentere erano all'ordine del giorno, se c'era una carta per terra, se non venivano potati gli alberi. Insomma, ogni giorno era una polemica. Oggi nessuno parla più, nessuno si lamenta più. Sembra che in questo paese siamo diventati tutti degli zombie, nati e viviamo solo per mangiare, uscire qualche volta a divertirci e subire soprattutto. Insomma, assisto in questo paese al declino reale del coraggio civico, il coraggio di protestare, di reagire, facendolo naturalmente in maniera civile. Eppure io le opere le realizzavo, ho ridotto durante la mia gestione la pressione fiscale. Ma allora molti si lamentavano e non ho mai capito perché. Oggi questo non succede. Se stanno lì sopra, la colpa è di chi li ha votati. In questo paese dobbiamo smetterla di versare le lacrime di coccodrillo. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre scelte. Quindi, siccome la seconda volta che si sbaglia, è opportuno che la prossima si rifretta davvero tanto prima di votare una coalizione, un candidato. Grazie. Grazie.